Siamo qui stasera per la presentazione del libro sul professore Nanalo Bianco, così lo conosciamo tutti ed è questa un'iniziativa che abbiamo voluto inserire all'interno della manifestazione 30 libri per 30 giorni che viene ogni anno organizzata dalla BC Sicilia, Bene Culturale Sicilia, 30 libri in tutta la Sicilia e a Partinico c'è questa evidenza che riguarda il professore Nanalo Bianco. Il libro è stato messo insieme, curato dal Salvo Vitale e mi fa piacere che c'è una mia produzione una mia recensione sul professore Nanalo Bianco che io ho pubblicato nel 2011 nel Granario della Memoria quindi sarà un modo per ricordare un uomo che ha rappresentato un pezzo del Novecento un pezzo della storia politica del nostro paese, del nostro territorio di quando la politica era impegno, era solidarietà, era capacità di stare insieme e quindi ecco il ricordo di un uomo che ha vissuto un'esperienza umana importante, profonda credo che sia importante per tutti quanti oggi vivono questo momento così difficile. Volevo inoltre infine ricordare la figura di letterato, di uomo di cultura, non solo di politico di uomo di cultura Nanalo Bianco di cui io mi invento di essere un allievo, con lui ho fatto delle lezioni di latino e se io ho imparato ad amare il latino lo devo appunto alla figura del professore Nanalo Bianco che aveva una capacità di rapporto, di dialogo, di confronto con gli allievi, importante perché ci metteva al nostro agio e ci metteva nelle condizioni di guardare allo studio come un fatto positivo, non come un fatto negativo. Detto questo credo che questa sera vivremo un momento importante di vita culturale per la nostra comunità. Oggi abbiamo presentato questo libro, più che una presentazione è proprio un ricordo del professore Nanalo Bianco, detto Leonardo, che è stata una di quelle persone che a parte di me sono diventate quasi una razza rara, cioè una persona seria, corretta, dignitosa che può essere ricordato almeno per tre caratteristiche, un uomo politico, uno scrittore e un educatore. Come uomo politico dopo si laureò prestissimo in lettere classiche, insegnò a Trapani e poi per molto tempo al liceo classico di Partenigo, dove fu anche preside per quattro anni dal 58 al 62. Dopodiché si trasferì a Palermo e continuò a fare il vicepreside e fondò a Palermo la sezione siciliana della CGL. Questo per quanto riguarda l'educatore che come preside e come docente di latino e di greco, oltre che di letteratura italiana, fu uno dei più preparati a Partenigo. Poi ricordiamoci anche il suo ruolo di politico. Dopo sette anni di campo di concentramento in India, era un ufficiale che venne catturato in Libia dagli inglesi e portato in India, ritornò, si iscrisse al Partito Socialista e dal 1946 al 1967 fu consigliere comunale socialista a Partenigo. Cioè uno che per vent'anni è consigliere comunale e soprattutto in un partito di opposizione vuol dire che un minimo di consenso è riuscito a costruirselo. Leonardo da Bianco questo consenso se l'era costruito partecipando attivamente a tutti i movimenti di quel periodo, alla lotta contro la mafia, alla denuncia del clientelismo, di tutte le insufficienze che avevano ridotto Partenigo in un paese in cui la miseria per dirla in Siciliano si arronzava con la pala, in cui lavoro non ce n'era e in cui ancora c'era gente con l'acqua e la luce, che mancava senza avere la luce dell'acqua in casa. Quindi diciamo un'attività costante nel Partito Socialista da cui intorno al 1964 poi si separò per andare nel psiuppo nel momento in cui i socialisti, quelli di Filippo Fiorino, scelsero di aderire al governo. Lo Bianco rimase invece con quei socialisti che rimasero all'opposizione, il cosiddetto psiuppo che è pure il partito in cui guarda caso aderì Peppini Impastato, allora giovanissimo e che fu anche un alunno di Leonardo Lo Bianco. Diciamo che quindi è una persona che ha lasciato un ricordo profondo, un'idea dignitosa della politica e potremmo dire che oggi con questo libro gli facciamo un doveroso omaggio e pensiamo attraverso i parenti anche di inviare ai commissari la richiesta di intitolazione di una via, visto che di via Partito Unico se ne intitolano alle persone più strane, almeno a quelle più meritevoli, qualche cosa facciamola pure.